Il 20 giugno ricorre la giornata mondiale del rifugiato, che significato ha questa giornata? In tutto il mondo si festeggia la giornata mondiale del rifugiato, precisamente il 20 giugno, perché così come è descritto nella Convenzione di Ginevra, il rifugiato è colui che fugge dal proprio paese per motivi religiosi, per motivi sessuali, per motivi di appartenenza ad una determinata etnia, comunque si ha paura di essere perseguitato proprio per questa sua caratteristica, per il suo pensiero, ha paura di essere perseguitato dal proprio paese. Quindi fugge ed ha diritto di ricevere protezione negli altri paesi. La Convenzione di Ginevra, che prima menzionavo, ha sottoscritto questo patto con più di 150 paesi proprio per la protezione di queste persone che fugono dal loro paese. E così come richiama anche la nostra Costituzione all'articolo 10, dove viene annunciato proprio che colui che è perseguitato nel proprio paese, in virtù della sua personalità, ha diritto di essere protetto nel nostro paese. Quindi qui non si parla di migrante economico oppure di persona che emigra per motivi familiari oppure per motivi di lavoro, per la ricerca del lavoro. Qui si parla di persone che fuggono dal proprio paese in difesa della propria individualità e proprio come diritto umano in questo senso. Quindi si parla di garanzia di protezione dei diritti umani. Siamo nella sede dell'ASP, ambito 9 di Iesi. L'ASP è capofila di un grande progetto a livello nazionale, si proimi ex SPRAR, che si chiama Ancona provincia d'asilo. Di che cosa si tratta? Prima di entrare nel vivo di questo progetto e descrivere quali sono le attività che svolgeremo in queste tre giornate dedicate al rifugiato, vorrei prima brevemente spiegare che cos'è l'ASP. L'ASP è un'azienda a servizi alla persona, di capitale pubblico, che gestisce i servizi sociali dei 21 comuni aderenti a tutto quanto l'ambito 9. Quindi l'ambito di Iesi, il comune di Cingoli, di Apiro, di Monte Roberto, eccetera, 22 comuni facendo parte all'ambito. L'ASP ambito 9, insieme al comune di Iesi, gestisce uno dei più grandi progetti a livello nazionale di accoglienza dei rifugiati, appunto Siproimi, l'ex SPRAR, il terzo in Italia per numero di posti in accoglienza, infatti diamo accoglienza a 492 beneficiari e siamo i primi in Italia per numero di comuni coinvolti, cioè avere i comuni che sono partner di questo progetto sono ben 22 in tre ambiti territoriali, dall'ambito di Osimo, l'ambito di Falconara e l'ambito di Iesi. Parliamo della giornata mondiale del rifugiato, il 20 giugno. Voi avete organizzato delle manifestazioni che durano tre giorni, 19, 20 e 21 giugno, proprio nelle varie sedi territoriali. Esatto, proprio per cercare di sensibilizzare la cittadinanza nei vari ambiti abbiamo deciso, così come anche l'anno scorso, ed abbiamo avuto anche un grande successo l'anno scorso, di replicare le attività ed alcuni eventi, ma soprattutto quindi di organizzare questi eventi sia a Camerano, a Falconara e a Iesi per dare voce e spazio agli ambiti coinvolti. Dopo le mie colleghe dietro che fanno parte dell'unità operativa spiegheranno nel dettaglio le attività di ogni giornata, che come potrete vedere uniscono attività laboratoriali di divertimento, attività con i bambini e con i giovani, eccetera, con momenti di informazione proprio sul tema della migrazione. Giovanna, allora vuoi spiegarci cosa accadrà il 19 giugno a Camerano? Il 19 giugno saremo a Camerano in Piazza Roma, dove ci saranno delle attività laboratoriali, laboratoriali, artistiche dedicate un po' a tutte le età e in particolare per esempio la Biblioteca Vivente, un'iniziativa che consentirà alle persone partecipanti di conoscere meglio questi rifugiati e i loro paesi, i paesi da dove provengono. Poi si susseguiranno molte altre attività, tra cui una mostra fotografica, degli altri laboratori e vi terremo con noi fino alle 21 della sera, orario in cui ci sarà un concerto a chiudere la serata del gruppo Anima Equal. E continuiamo con Manuela che invece ci racconterà cosa accadrà nella giornata del 20 giugno. Il 20 giugno saremo a Falconara, presso la location del Parco Kennedy e a partire dalle ore 17 ci saranno diverse attività per grandi e piccoli. Ci sarà il torneo di calcio, il laboratorio di pittura e il laboratorio teatrale e poi a partire dalle ore 18 inizierà un concerto con Francesco Pex e Grancia Social Club per poi concludere alle 21 con il concerto di Riciclato Circo Musicale. E concludiamo gli appuntamenti con Silvia Tommassoni, il 21 ci sarà l'evento Clou, un grosso convegno. Sì, allora come tutti gli anni concludiamo con Iesi che è l'ente titolare del progetto, saremo a Palazzo Bisaccioni, parleremo dell'informazione e delle fake news perché è un argomento molto interessante, parleremo con Maiolica rispetto a come si creano le fake news e come vengono smontate soprattutto nell'ambito dell'informazione e dell'immigrazione. Ci sarà anche Alessandro Mez che porterà la sua esperienza rispetto alle ONG, Ionio e le nuove fragilità e per concludere Manuela De Marco invece che è una rappresentante dell'ufficio politiche migratorie della Caritas italiana. L'evento inizierà verso le 9, terminerà alle 13 all'incirca, quindi sarà un evento informativo perché nel progetto diamo largo spazio alle informazioni che ruotano intorno alle migrazioni. Come altri eventi già messi in atto dall'Asp, due in particolare, immaginare i migranti e il decreto sicurezza. Sara, allora vogliamo ribadire in conclusione l'importanza dell'informazione per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati e quindi che cosa bisogna aspettarsi da questa tre giorni? Sì, è molto importante questa giornata mondiale dei rifugiati che stiamo organizzando, abbiamo anche messo in pratica degli eventi gratuiti per la cittadinanza, infatti il 19 a Camerano avremo la visita gratuita delle grotte, il 20 a Falconara offriremo il gelato gratis per tutti i partecipanti e invece al convegno del 21 giugno offriremo un coffee break. Tutte le tre giornate sono aperte al pubblico e sono eventi gratuiti, quindi aperte tutta la cittadinanza. Barbara, possiamo ribadire l'invito a quanti ci stanno guardando? Bene, vi aspettiamo quindi tutti numerosi a queste tre giornate dedicate al rifugiato, il 19 a Camerano, il 20 a Falconara ed il 21 a Iesi. Per vedere il programma dettagliato di queste tre giornate potete accedere alla nostra pagina Facebook Aspa Ambito 9. Aspa Ambito 9.